Direi che ci siamo, siamo in live, siamo in live, vediamo se tutti mi sentono, prova, sì, io mi sento, voi mi sentite, problema connessione, sì, strano, si è disconnessa la connessione, un attimo, rimanete calmi, state tutti molto calmi. Mi vedete tutti, mi sentite tutti. Siamo che entra un po' di gente, intanto io invio un po' di inviti. Ah bene, allora. Siamo aspettando che entri un po' di gente, eh. Allora, con molta calma e delicatezza. Va beh, noi iniziamo. Gli altri arriveranno. Eeeh. Poi esageratino nelle orecchie, così di capiveria. Single player, gone. Salviamo. Beh, se non sai volare non puoi uscire dalla città, comunque. Per dire. Sì, siamo pronti. Andiamo. Sì, vola. Sì, vola. Sì, è meglio non trasformarsi in Super Saiyan, no? Sì, è meglio non trasformarsi in Super Saiyan. Cerchiamo di non dare nell'occhio. Dicevano. Sì, siamo arrivati. Ci siamo tutti, evviva! Sì, è proprio Goku. Peccato che non ci sia anche Tenshin, Griff. Si è sicuro. Sì, siamo tutti. Sì, siamo tutti. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. condividete la live condividete la live condividete la live fate i bravi mi piace insomma fate quelle cosine che piacciono tanto a noi allora cosa posso comprare niente non compro niente ma pensa tornerò scriviamoci va grazie a cash salvatore per essere venuto sì la fortuna a me non serve eh poverino grazie a tutti ma che puzza che sta andando a cucinare tutte le sere c'è sempre qualcosa sì mostraselo il suo famoso pugno credo di aver passato il turno sì vai è ora di lottare coraggio grazie a tutti allora devo distruggere 10 ok va bene vai vai che fai scappi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti aumentiamo 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 grazie a tutti ma numero 7, dai via tutta, numero 8, numero 9, numero 8, si, atto i navi anni, Abbiamo un problema Houston abbiamo un problema Ci sono i Biosdi Va bene Facciamolo Wee Ciao Octavian Dove vai? Che fai? Scaffi? Buonasera a te Fatto Sì Si è fatto sconfiggere Questo è sicuramente quello che è accaduto Un po' come lui ha vinto il torneo di Shell Trocchiamo come è gone? Andiamo Viga Sì è vero Ah come siete grandi i grossi Salviamo Si comincia? Dai Fatemi iniziare Sì siamo pronti E Krillie passa il turno Cambio di atmosfera Grazie per il mi piace Tavian Sì ti sei spaventato Non puoi Ti arrendi? Si arrende L'irrepreensibile junior Che si arrende Sì tanti mi piace Tanti tanti mi piace Si sono No No non lo sono Eh decidetevi Uno dice di sì Uno dice di no Non ci capisco Lo sei o non lo sei? Santalo Ah gioco come Vidale Vero No No Non mi pare in realtà, penso sia solo per questo incontro, questo incontro farsa, tanto sappiamo tutti come andrà a finire, cioè va a finire che Gohan si innamora di lei, capisce di essere innamorato e si incazza come una ruga. Lei starà bene, ma ha bisogno di tempo per riprendersi. Sì, ci penso io. Non puoi avere un ragazzo, non te lo conchazo. Benissimo, ma... Ahia, ahia, credo di avere un problema con i muri. Salviamo. Facciamo anche un tuffo. Splash! Catturato Magikarp? Ah no? Non ha boccato nulla. C Corin ed è parkour. Da dove sei? E' 66 blaltare! No! MA giornata contenta... Si! ..diciamo che mi sono divertito a senare di carre... una pianta secca pianta morta prima che qualcuno la pensi male un attimo comunque si mi sono sfogato su di lei poi non c'entrava nulla però tant'è una padiglia per tirar via le radici erano belli in fondo avevo paura anche di zappare troppo perché c'è anche l'inchiato del gaff lì vicino, non era bello no, non ho pesci, me l'hai dato inventario ah, grazie scusa non pensavo che crescessero sugli alberi torniamo all'ovile oh non era meglio usare il teletrasporto, non si faceva prima ma mi dirai poi dov'è il divertimento e senza sbattere mangia mangiare ti fa guarire prima la vedo da sto io grazie grazie senza elmo senza bandana senza niente è gone satan deve mettersi nell'ottica due cose uno che deve iniziare a pensare che forse la verità salta fuori e due che sua figlia ha un ragazzo e questo non lo può controllare combattiamo? sì, è tutto lui fa tutto lui sia Grace Simon che è il dotatore dei capelli dorati sì ha più personalità è per quello ogni personalità ha il suo modo di apparire che è il suo modo di apparire ma è scoperto è il mio fascino che se vuoi fa sì il mago vabidi vivi di vabidi buh un bel gioco di parole vivi di vabidi buh e saltiamo i discorsi dai su tanto li sappiamo un bel gioco un bel gioco un bel gioco e saltiamo i discorsi Direi che siamo arrivati Ciao Matteo Qui è meglio se salviamo Molettine, Molettino V Salve Goku Si è vuos fuori Dove siete tutti? Facciamo un po' di strage Vieni qua, dai Fatti abbattere Allora Inventari Equipaggiamento Ce ne sono altri qua? Sì, ce ne sono altri Allora, intanto io ne posso già dare altri 6 Come oggi Via di potenza Un po' di riso Un piccolo talismano Paradossalmente utile Inventari Ah, arrivano 95 Monetine Altre monetine Va bene Uno E due Tac Libidile Attenzione Libidile Coi fiocchi Dove sei? Ah, eccoci È un po' di riso Da Tac Allora, al momento, in totale ci sono Gohan, Goku, Vegeta, Trunks, il piccolo Trunks e il piccolo Goten. I personaggi giocabili sono questi. Al momento posso utilizzare solo Goku, Gohan e Vegeta. Adesso facciamo un po' di level up. Arriviamo, cerchiamo di arrivare con un po' di gente a un certo livello. Tu cosa hai da raccontare? Sì, lo conosco. Va bene, grazie. A Girovai non gli piace che ci corri intorno. Tre giri. Grazie, Santino! Tre giri di fila senza mai fermarsi. Allora. Tiene un altro, no? Sì, mi ricordavo una altra, io. Sì, sì, sì. No, salviamo e cambiamo personaggio. Molto bene, molto, molto bene. Una maschera. Grazie del consiglio a Lord Meroem e benvenuti in live. Fa piacere vederti. Cosa fai mascherina? Ah, no, la posso ancora usare. Soldi! Allora. Parロ Mantra. E... Acto. Grazie a tutti. Guardate qui. D ST corps dicitamento. E... P absolviamo. ... ... sono d'accordo con te questo gioco è meraviglioso ok tra l'altro servono anche gli oggetti ciao augusto mi fa piacere che tu l'abbia visto che mi abbia raggiunto la compagnia mi fa sempre piacere sì questa è la seconda live grazie grazie aumentiamo la resistenza grazie augusto del mi piace gentilissimo davvero gentilissimo tanto è inevitabile è inutile che vi sportiate sì augusto ho finito dragon ball legacy of goku 2 e ho iniziato con questo secondo me fra i migliori dragon ball di tutti i tempi sì ora sto livellando perché se i ricordi non mi mentono se i ricordi non mi mentono dopo mi servirà un po più di potere di potenza e di solito la mia mente non mi non mi mente mai per i giochi di parole la mia mente non mi mente solo per questo merito tanti mi piace ho grazie e so devo ricordarmi sempre di fare anche le rocce almeno prendo su un po' di soldini anche dalle rocce vieni qua 2.000 mi piace ma siete matti vi volete far saltare un infarto gentilissimi addirittura due in una e mori cosa fa la cintura verde raccontami di te si può stare ma io potrei anche mettere non questo ma questo aumentando considerevolmente la potenza molto bene un po' di vestiti sporchi dopo li portiamo alla signora bris abbiamo anche la colf sempre più potente grazie Panino Piccioli Oh Vieni qua No, non andate lì, maledetti Yee-hah Hey Yeah, yeah Oh No, non andate lì, maledetti Ne serve ancora uno Ok Ma qua non Ma sì dai, diamogli lì Non servono a niente lì, però Ok Cambiamo personaggio Vegetta Salviamo Cambiamo carattere Che carattere Anche i personaggi Allora Con molta calma e delicatezza Questa Questa Che schifo Vegetta Devi Devi crescere In fretta Non è che noi abbiamo tutto il tempo del mondo Ci va Ci va Allora Questa Iniziamo un po' a ragionare. Ok. C'è un po' poco traffico stasera su TikTok. Vabbè. Pochi ma buoni. Vittima di guerra. 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 Il primo figlio? Dai, è una bella cosa, mi fa piacere per te! Penso che adesso io non ci sono mai stato in mezzo, però sicuramente magari all'inizio sarai un attimo così, ma vedrai che una volta che lo vedrai per te nella tua vita ci sarà solo lui, sarà sicuramente così e sarai il papà migliore del mondo per lui, non ti preoccupare, l'importante è che tu sia l'eroe di tuo figlio, non di tuo figlio, per tuo figlio, devi essere l'eroe per lui, per gli altri, fa piacere, grazie della confessione, sono lusingato. Povero Kibbit e Krillin e Junior! Auguri Debora, fa piacere per tutte e due! Sono sicuro che sarà un bellissimo bambino, sono sicurissimo! Proprio poi ecco si tagliato! Allora io devo tornare indietro E prendermi Goanna Tutta rossa dai Forte coraggio Che come dice il saggio Dopo aprile viene maggio Ah per quello Vabbè dai siamo solo Quattro spettatori Era peggio Vabbè? Testimonierò a tuo favore Ciao Nicolas, tutto bene e te? Beh, io spero un giorno di avere così tanti, eh Ancora lunga Ancora un po' lunghetta Allora, io però dovevo fare una cosa qua Perché se no No, questo va bene Aumentiamo la pesantetta Questo ancora non lo posso usare Il Demon Mask Guarda, io sinceramente non ho fretta A me l'importante è riuscire a divertirmi con un po' di compagnia Se ho della compagnia sto bene Non mi piace giocare in coppia Però mi piace giocare in compagnia Che è diverso Sono due cose ben diverse Nooo, non sbagli Ehi, che fai? E se ti concentri scopri anche di dove sono Circa Una donna un po' larga Mi sa che ne abbiamo già parlato Ci sei... Ah no, l'hai detto tu di Bologna Eh Sì, sono di Bologna Nooo, Ferrara, davvero Allora, me ne manca uno Dov'è? Dove sei, Ferrara? Dove sei? Vieni fuori Ho bisogno del pulsantello Allora, così, così Così, così Allora, questo lo fa Con molta calma, mi sono perso Allora Ehm, no Ho Ho un altro impegno Ho un impegno in famiglia Penso che lo salterò Anche se quest'ultimo anno Ne ho saltati un bel po' Praticamente non sono andato a nessuno Quest'anno Ah, gra... Devi andare indietro all'inizio Fanno i furbi, insomma Sì, penso di sì Beh, già dal prossimo anno Penso di Provare a recuperare, insomma Di qua Grazie, boxer Gentilissimo Se conti che non sono mai stato a Luca Comics E quella È una tappa che Devo assolutamente Un'altra maschera Ecco, quella è una cosa importante Poi se hai anche altre cose in ballo È un problema andarci E ogni anno c'è sempre qualcosa Contando che Come lavoro In quel periodo Difficilmente mi danno delle ferie Allora A me dispiace tantissimo Perché mi dispiace tantissimo Ma devo salutarvi Nel senso Ho terminato le mie tempistiche Vista l'orso Arrivato anche un po' oltre Figlierò dei nomi sicuro E Vi ricordo Che questa live Verrà caricata Come tutte le altre Sul mio canale YouTube Il che significa che Se vi siete persi qualcosa Potete tranquillamente Andarvelo a recuperare lì E se vi iscrivete Mi fate anche un enorme favore Ma Se guardate anche i video Eh? Mettendo vi piace Tutto quanto Tutto quello che sapete Che dovete fare Insomma Grazie a gusto Per il GG E Insomma Sapete cosa fare Io di solito alle 8 Dalle 8 alle 9 Al momento Posso solo in questo orario qua Come tempistiche Posso solo Posso solo in questi orari qua E E Se ti fa piacere Come oggi Ti invito anche Ti invito come oggi Tutto quanto Dicevo Tornando a YouTube Andate su YouTube Vi iscrivete al mio canale Seguite il link in bio Così Non vi perdete A cercare i nomi Link in bio di TikTok Trovate il mio link di YouTube Detto ciò Fate questa marchetta Poco velata Sarà fatta a gusto E Fate questa marchetta Non Troppo velata Salutami Deborah Ancora Ancora Tanti auguri Mi è stato molto piacere Sapere la notizia Vai così Vai così Taglie tutta E Tante cari cose Sì Sì Mi chiamo come qua Max Hanten Fai prima andare su A cercarmi tramite Comunque ho lo stesso logo Quindi non cambia nulla Mi cerchi sul Vai sul Mia bio Di TikTok C'è proprio il link Diretto Così Se fai prima Vedi tu Tante cari cose Fate i bravi Non fate socchezze Ci vediamo alla prossima live Andate su YouTube Iscrivetevi Ciao Mi spiace Forreal Ci è arrivato all'ultimo Ci vediamo domani Con la prossima live Spero domani Sennò venerdì Ciao a tutti Grazie Forreal Ciao a tutti Ciao